Abbiamo riempito le giornate di nuove idee, mentre tutto intorno a noi iniziava a svuotarsi. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, anche quando sembravano irraggiuncibili. Abbiamo disegnato nuovi spazi, quando quelli vecchi erano inaccessibili. Abbiamo lavorato insieme, ognuno dalle proprie case. Abbiamo fatto progetti a termine, quando ogni programma sembrava indeterminato. E abbiamo coltivato speranze concrete, per tornare a guardare al futuro. Abbiamo fatto tutto questo, e l'abbiamo fatto in un modo solo. Insieme L'AS Spazio alle persone